a mo se stacchiamo questo uno l'altro questo non si stacca sembra di no sembra di no perché togli questo a vedere se si alza togli questo a vedere se si alza su quello lì è dentro ma non viene neanche quello non si stacca neanche quello lì ho provato non si stacca a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.